La pillola di oggi è dedicata al protocollo ASVS. Nel 2011, con la collaborazione particolare della dottoressa Tiziana Calzone, della dottoressa Carmen Pellino e del dottor Massimo Lattanzi, è stato strutturato il protocollo scientifico integrato IPC, Scientific Violence Screening, che prevede un assessment specifico della valutazione del rischio. Il protocollo ASVS, forse unico sul panorama internazionale, è applicato alla popolazione di persone che hanno vissuto, subito, agito e assistito condotte violente. Una rivoluzione culturale in termini di prevenzione e contrasto alle relazioni disfunzionali, un nuovo punto di partenza. Il protocollo prevede colloqui clinici, una valutazione psicofisiologica, una psicodiagnostica specifica e un percorso integrante psicotraumatologia, mindfulness e terapia sensomotoria.